ma quanto sono fighi volevamo stupirvi con effetti speciali ok la pianto di fare la cretina allora video di oggi oggi voglio chiarire se riesco guardate che sto levando dei legni fossili dal posto scusate dove l'avevo inseriti e dicevo voglio tentare di chiarire queste idee sul discorso bene male positività negatività questo perché vengono confusi oh mi si è alzato il ciufotto mi piace fare ogni tanto come le perlotte io scaricatore di porta inside vengono troppo confusi non vengono capiti e soprattutto viene costantemente frainteso il mio modo di dire che il bene e il male io sono piena di capelli ma che ho combinato stasera ma vabbè saranno peli del gatto viene costantemente frainteso il mio modo di dire il bene e il male non esistono quando dico che il bene e il male non esistono io intendo a livello di concezione dell'universo mi spiego meglio cercando di essere il più chiaro possibile almeno a voce perché per iscritto noto che non si riesce mai a capire quello che spiego su questa tematica in questo frangente all'universo che non è un dio delle religioni quindi non gliene frega una mazza e mezza di giudicare niente e nessuno non gliene frega manca una mazza e mezza se voi facciate del bene o del male a qualcuno a tutti o a nessuno non c'è un giudizio e di conseguenza sempre per il mio personale modo di conoscere l'argomento e di sapere le cose assolutamente opinabile da chiunque lo dico e lo sottolineo perché sennò sembra che io voglia fare il guru di turno o il nuovo messia lungi da me certe cose torniamo all'argomento del video il bene e il male per l'universo non esistono a livello di giudizio non gliene frega una mazza all'universo ma frega comunque frega alla nostra coscienza in primis e all'attrazione o al respingimento della positività e della negatività verso di noi verso il nostro ambiente la nostra famiglia il nostro quartiere la nostra città il nostro stato il nostro pianeta perché? perché io lo dico sempre la persona che fa solo del bene non esiste la persona che fa solo del male non esiste è il Tao io sono scintoista ma non sono taoista però il concetto del Tao è realmente il concetto universale tra i due opposti c'è sempre l'uno dentro l'altro il Tao è il bianco con il pallino nero il nero con il pallino bianco che significa nel buono c'è sempre un po' di cattivo nel cattivo c'è sempre un po' di buono nella donna c'è sempre un po' di uomo nell'uomo c'è sempre un po' di donna e via dicendo tutti i contrari l'uno verso l'altro hanno un qualcosa dell'altro al loro interno io ho sempre la mia bronchite da Mrs. Smoke ma fa lo stesso tanto ormai ci siete abituati quindi partire dal presupposto che una persona sia buona o che una persona sia il male sia malvagia non ha senso lo stesso dire fare del bene e fare del male non ha senso a meno che non la si metta in un contesto ristretto cioè quell'azione è stata un'azione dettata mentalmente dalla bontà o dalla malvagità ci sta come discorso anche se poi sarebbe opinabile in parte anche quello però ci sta perché io quando faccio una qualsiasi azione la faccio con un pensiero retroespresso dentro la mia testa quindi io faccio una determinata azione qualunque sia per una motivazione che ho pensato ma qualsiasi azione io faccia nell'arco della giornata io parlo di una vita normale non sto parlando dell'assassino o di madre Teresa di Calcutta che anche loro comunque madre Teresa di Calcutta ha fatto anche del male e l'assassino lo stronzo lo stuporatore ha fatto anche del bene nell'arco della vita ovviamente non in determinati frangenti quindi è lì che dico che nel male c'è il bene nel bene c'è anche il male ma nella nostra giornata tipo noi facciamo comunque ogni attimo ogni istante sia del bene che del male e questo non riesce a entrare nella cognizione del popolo occidentale faccio qualche esempio mi stava scappando la sedia da sotto al chiulino e se volevo in terra voi ridevate ma io no faccio qualche esempio mi alzo la mattina e mi lavo la faccia la cosa che facciamo tutti nel momento in cui io mi lavo la faccia sto facendo del bene e sto facendo del male faccio del bene alla mia pelle faccio del bene a chi magari poi mi saluta e non la faccia a sozza faccio del bene anche al produttore stesso che ha venduto il sapone con cui mi sto lavando la faccia faccio del bene a come si dice all'impianto idrico come si chiama oh non mi viene vabbè ai gestori che gestiscono le acque non mi viene il termine perché gli pago l'acqua gli pago la bolletta e quindi sto facendo del bene sto facendo anche del male butto nello scarico del sapone il sapone inquina mi sto mettendo sulla pelle anche se la sto detergendo delle sostanze chimiche e quindi comunque in parte gli ho fatto del bene in altra parte gli ho fatto del male sto facendo del male alle risorse idroidriche del pianeta perché sto consumando dell'acqua è un esempio che sembra stupido ma se voi ci ragionate è così in tutti i campi nel momento in cui io sto mangiando qualcosa faccio del bene alla mia fame faccio del bene alla mia necessità di proteine vitamine carboidrati e via dicendo faccio del bene ai negozianti dove ho comprato il cibo faccio del bene che ne so ai miei capelli alla mia pelle perché comunque con le vitamine con la roba che mangio si sostentano faccio del male magari se sto mangiando della carne all'animale che mangio ma anche semplicemente mangio della verdura ho fatto del male a un'insalata che è stata comunque tagliata ed è un essere vivente faccio del male perché poi comunque questo mangiare da qualche parte esce non voglio essere volgare e lì subentra il lavaggio subentra l'acqua che tiri con la catena subentra la carta igienica che utilizzi e butti nel water altro inquinamento e via dice sembrano esempi stupidi ma è la realtà dei fatti dall'esempio stupido potrei andare ad esempi più grossi o più concreti uno stato una nazione che decide di fare la guerra contro un'altra nazione se c'è una cosa brutta è la guerra ovviamente e questo sia per il popolo attaccante che per il popolo ricevente ma in generale quando io faccio esplodere una guerra io sto facendo del male alle persone ai cittadini all'aria perché inquino anche se lo bombardando animali case cose sto facendo dei pluriomicidi quindi comunque sto facendo del male all'altro popolo che attacco e anche al mio stesso perché comunque deve andare in guerra perché comunque rischia il contrattacco perché comunque ci saranno delle penurie delle carestie o finanziarie o di alimenti e via dicendo quindi sto facendo una cosa che porta del male nel contempo sto facendo del bene per esempio alle industrie siderurgiche alle industrie che producono armi a tutta una serie di industrie che gestisce anche i servizi per esempio di mense militari piuttosto che di medici in prima linea perché comunque gli pago lo stipendio infermieri in prima linea soldati stessi che vengono pagati maggiormente quando sono in missione e fino ad arrivare a le cose più assurde del tipo che ne so mi bombardi casa dove c'era nonno nonno a me stava sulle palle personalmente a me in prima persona mi hai fatto del bene perché ora mi cucco l'eredità e mi sono tolta dalle palle nonno ecco sono sempre esempi portati all'estremo eh in tutti quelli che sto facendo ma è proprio per far capire che non esiste una persona che fa solo del bene non esiste una persona o una cosa anche che faccia solo del male le medicine stesse prendete le medicine ad esempio il classico detto delle medicine è sempre almeno dai tempi di mia nonna lo diceva già eh fanno bene per una cosa ma fanno male per l'altra il mangiare il mangiare fa bene ma se io ho il colesterolo certe cose mi fanno male se io ho il diabete una cosa che ti fa bene a me fa male per esempio se io ho tolto un tumore io ho tolto un tumore io non posso assolutamente prendere le vitamine eppure le vitamine fanno benissimo ma nel mio caso sarebbe un rischio quindi mi farebbero male e via dicendo questo è il concetto di bene o male quindi l'universo non può non potrebbe giudicare un'azione come benevola o malevola io parlo dell'azione materiale cioè dell'azione fatta e compiuta non si può giudicare malevola o benevola se io corro con la macchina per arrivare presto a un appuntamento di lavoro per arrivare presto a trovare una persona faccio del bene verso quella persona verso quell'appuntamento perché cerco di essere puntuale e precisa nel contempo faccio del male perché rischio di ammazzare qualcuno rischio di ammazzarmi io rischio di schiacciare qualcuno mentre vado qualche animale e via dicendo gli esempi sarebbero infiniti vi sfido a mettermi nei commenti se ne avete qualche azione che possa essere solo ed esclusivamente buonaria o malvagia qualsiasi perché persino lo stupro di una persona e non voglio entrare in meriti assolutamente di discorsi da betola o ma con tutto il marcio con tutto il brutto con tutto il malvagio con tutto lo psicopatico che c'è in un'azione del genere il lato positivo è che se non lo faceva lui lo faceva un altro quindi a qualcun altro per qualcun altro è stato un bene avete capito cosa voglio dire non è che sto giustificando le azioni malevole non mi fraintendete perché non c'entra assolutamente nulla sto parlando a livello universale delle vibrazioni del bene e del male che non hanno un senso quindi all'universo che voi facciate del bene o che voi facciate del male non gliene frega niente diversa è la questione della positività e della negatività la positività come la negatività viene attratta o rimandata e quindi poi di conseguenza anche riassorbita dalle vibrazioni del nostro pensiero del nostro intento se io ti uccido pensando a quanto ti odio e ricordando il perché ti sto odiando sto emettendo a prescindere che sto facendo del male quindi sto uccidendo ma quello lì non ha senso ripeto per l'universo ma sto emettendo vibrazioni negative perché sto pensando a cose che comunque per me sono estremamente negative quando emano queste vibrazioni negative mi ci ricopro anche io le onde quando voi tirate la pietrolina nel lago il buchetto si espande poi torna indietro e quindi me le riassorbo oltre ad averle emanate intorno a me espando negativo e il negativo attrae negativo se io mentre sto ammazzando la stessa persona penso invece che la sto uccidendo sto facendo l'esempio di uno psicopatico perché la amavo così tanto che almeno sarà per sempre solo mia e sento felicità mentre la uccido sembra un paradosso ma io attiro energia positiva perché il mio intento è positivo per come lo penso di conseguenza io su di me attrago positività al contrario la classica vignetta contro le persone bigotte che gira sempre sui social e via dicendo che fa vedere la tipa che fa la carità a qualcuno e poi dentro la sua testa pensa pezzente ecco se tu fai la carità aiuti la vicina di casa a portare le borse ti prodighi per aiutare nei centri di aiuto a dare i pacchi regali cose ai poveri però poi mentre lo fai pensi a quei pezzenti gli do qualcosa faccio questo così quella li vede che sono brava tutti i pensieri comunque che mandano un intento negativo puoi essere buona quanto vuoi esteriormente che attirerai su di te e tutto intorno a te solo negatività non importa che tu il gesto lo stia facendo bene buono se invece io dico questo lo regalo perché voglio che lo abbia anche quella persona così è felice io sono felice se è felice attiri positività io lo vedo anche nella vita di tutti i giorni anche nei social io ho tra quattro amiche nei social che insieme a me cioè che come me hanno la loro pagina dove vendono magari pietre amuleti ho due o tre amiche che sono scrittrici e scrivono libri tanto quanto le scrivo io un amico un'amica cioè a Liona la mia amica che ha scritto oltre il vuoto adesso e ne ha altri due alla Bernic piuttosto che un mio amico che ha scritto si chiama Marco Scarpa ha scritto il triste clown ce li ho tutti perché io scrivo libri ma mi fa anche un enorme piacere acquistare cercavo l'altro dell'altra mia amica acquistare anche i libri appunto di amici e conoscenti perché per me è uno scambio proprio piacevole da sostentare da tenere nel limite delle mie poche possibilità ma cerco di farlo quando non posso piuttosto gli faccio delle pubblicità sulle mie pagine via dicendo questo di nuovo di Alla Bernic sempre a Liona la figlia delle farfalle poi ne ha fatto anche un altro ma potrei fare esempio adesso non li ho tutti qua portate di mano c'è la mia amica Maria Teresa Corrias che ha fatto una raccolta di poesie o anche la sua ma devo averla in camera perché la stavo leggendo e e via dicendo ma non solo quello amici che magari hanno fatto un film o un video musicale cerco sempre di dare una mano a farli conoscere perché secondo me è giusto che le persone che fanno le stesse cose che faccio io abbiano più possibilità possibili peraltro io non mi aspetto mai che gli altri facciano lo stesso con me io non lo faccio con l'intenzione di avere un rendiconto ma lo faccio proprio perché a me fa piacere che queste persone abbiano una possibilità in più e se questa possibilità in più la posso dare io semplicemente parlandone in un video mettendo un'immaginetta sulla mia pagina perché non farlo questo anche per quanto riguarda appunto l'altra pagina che ho dove creo pietre anelli e cose varie quando un'amica fa un bracciale fa un paio di orecchini fa una cosa che per me vale esteticamente come beh io cerco di fare pubblicità anche a lei perché non è una gara a chi vende un anello in più non ha un senso per me eppure vedo che ci sono persone assurde sul web e anche nel real che cercano di farsi le scarpe pensando che che ne so che se uno compra l'anellino da uno poi non lo compra dall'altro non rendendosi conto che se tu mandi negatività anche per invidia perché ora gli frego il cliente a quella lì ora vendo il mio libro invece che il suo in realtà te la stai tirando addosso tu la negatività ma non perché fai il gesto perché pensi al perché lo fai io quando faccio quando cerco di dare una mano a chiunque lo faccio proprio perché voglio che questa persona sia aiutata in qualche modo anche quando vado a lavorare da certe persone anziane io vado spesso a volte parlando viene fuori il discorso e io dico sempre ci sono delle categorie di persone che sono appunto per lo più gli anziani i bambini le persone invalide che non è solo un lavoro cioè io se vado a lavorare lo faccio per lo stipendio è ovvio non voglio essere madre Teresa di Calcutta non lo sono e non mi interessa quindi non vado a lavorare per la gloria se vado a lavorare ci vado per avere un rendiconto e uno stipendio ma ci sono categorie di persone categorie di lavori che non si possono fare solo per lo stipendio devi farlo anche con una certa condizione di anima e di coscienza altrimenti lascia perdere e vai a fare un altro lavoro ecco e questi sono tutti gli insiemi secondo me proprio della mentalità positiva o della mentalità negativa come raccontavo anche l'altra volta quando sono caduta in terra per evitare un bimbo che se no lo bruciavo con la sigaretta la nonna preoccupatissima ti sei fatta male mi dispiace il bambino ti è venuto incontro e io la guardo e gli dico signora non la guardi anzi ringrazio che sono caduta qua sull'erba perché potevo cadere sull'asfalto e farmi male invece sull'erba mi sono piantata due ghetti di pino in faccia ma niente di grave ecco prendere il pensiero proprio nel trovare sempre realmente la positività e la voglia di fare il desiderio di fare il mio desiderio per esempio è che i miei libri prendano più piede soprattutto i miei romanzi ai quali questo è il primo e il secondo esce adesso che è un continuo di questo al quali sono particolarmente affezionata proprio a livello di anima un po' come se conoscessi i personaggi e ci tengo realmente tanto è ovvio altrimenti non avrei neanche fatti ma il mio pensiero che spero che vadano bene non implica che io debba sperare che non vada bene magari un altro scrittore anzi io dico sempre il mio spero che vada bene ma andasse meglio quello di Tizia Caio Sembronia sarai felice comunque davvero per lui o per lei non farei mai il rapporto di pensiero lei si e io no lei si meno male vuol dire che è più brava di me vuol dire che ha avuto più fortuna di me buon per lei meno male ma ne sono davvero contenta anzi spingo ancora di più la cosa di modo che ne abbia ancora di più di successo e nel frattempo io magari da questa persona imparo cose nuove che possono servirmi per la mia di ascesa per la mia strada questo è il pensiero positivo oppure al contrario è il pensiero negativo anche semplicemente augurare qualcosa di cattivo a chiunque fosse anche un assassino quello lì è un assassino morisse lui ammazzato ecco vi portate addosso della negatività voi voi intanto perché come dico sempre nessun essere umano può darsi da solo il permesso di giudicare non vi giudica l'universo cosa giudicate voi ma poi in generale dovete riuscire a scindere l'idea di cos'è il positivo e il negativo da cosa è invece il bene e il male perché il bene e il male secchi interi non esistono né per me né per l'universo e se ci ragionate sopra nemmeno per voi mentre invece la positività e la negatività esistono e il pensare positivo o negativo l'intento del vostro pensiero positivo o negativo attrae su voi stessi positività e negatività perché se voi augurate la sfiga a qualcuno a quello non gli arriva ma vi arriva tutta addosso a voi poi quando sento dire eh ai cattivi non succede mai niente perché i cattivi non pensano neanche di essere cattivi mentre invece tu che sei tanto buona gli mandi pensieri cattivi pensieri negativi e te la diri addosso tu e questo purtroppo è un dato di fatto bisogna imparare a cambiare la mentalità e il modo di pensare il modo di ragionare e soprattutto bisognerebbe imparare a non giudicare mai un'altra persona ogni volta che si pensa ma quella sta facendo ma io cosa faccio? guardarsi allo specchio perché se quella sta facendo una cosa probabilmente anche tu stai facendo qualcosa di sbagliato peraltro giudicare l'azione di una qualsiasi persona questo l'ho detto da poco tempo a qualche persona che anni fa giudicava determinati comportamenti determinate cose fatte da altri e a distanza di un po' di anni ha fatto le stesse identiche cose questo perché nella vita mai dire mai mai dire mai perché tutto quello che fa un altro essere umano potresti arrivare a voler o dover farlo anche tu chiudo il video bene e male positività e negatività mi piacerebbe che ci ragionaste probabilmente questo video non lo guarderanno in tanti perché non è uno di quei video da da divertirsi ma è serio ed è importante secondo me ragionare su queste cose vi do la buonanotte qui sotto come al solito ci sono tutti i miei link dove io bazzico nei vari social se mi cercate a zonzo per il web sto lì e ci sono i link dove sono in vendita i miei libri tra cui il mio amato romanzo vampiri e streghe ogni tanto lo ripeto e e niente ragionateci ciao 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 ciao